Le immagini di Raul Bova bloccato tra le macerie dopo le esplosioni hanno fatto piangere la compagna Rocio Muignods Morales. Si è parlato tanto in questi mesi del rapporto tra Raul Bova e Rocio Muignods Morales, della loro affinità professionale e della passione che li spinge a condividere tutto, a vivere questi anni insieme come un dono che ha dato loro la vita. In un simile stato mentale conta poco se questa unione non è benedetta da un matrimonio, ed infatti entrambi hanno dichiarato in più di un'occasione che si sentono già sposati mentalmente e che la cerimonia in sé non è una delle loro priorità. Tuttavia in occasione del Festival di Venezia, di cui Rocio Muignods Morales quest'anno è madrina, l'attrice spagnola ha aperto alla possibilità di un matrimonio con il compagno, scaricando la patata bollente su di lui. All'ennesima domanda sulle nozze, infatti, Rocio ha risposto che lei è una donna all'antica e non lo chiederebbe mai. Il che significa che se Raul avanzasse la proposta di matrimonio la risposta sarebbe assolutamente sì. Rocio Muignods Morales Non è rimasta insensibile a quanto visto Uscita dalla sala, infatti, la madrina del festival era visibilmente in lacrime anche se ha cercato di nascondere la propria commozione dietro agli occhiali da sole. Bloccata da un inviato di tv, sorrisi e canzoni, l'attrice spagnola ha ammesso, si sono commossa perché il cinema regala emozioni, perché la vita regala emozioni e il cinema permette di esprimerle e viverle. Il giornalista le chiede infine se si è commossa nel vedere questo film girato dal compagno e lei risponde senza indugiare, sì, molto. Nel vedere le immagini si capisce subito che le sue parole sono sincere e questa reazione naturale vale più di mille parole. Rocio ha apprezzato il film e il contenuto che ha mostrato, ma era sicuramente emozionata perché il compagno ha creato un qualcosa di davvero potente, capace di veicolare un messaggio importante ed emozioni forti. E, bello vedere inoltre quanto Rocio si sia emozionata per l'arte del compagno, segno non solo di amore ma di grande stima professionale.